Buongiorno, sono il direttore dello stabilimento Buzzi Unicem di Guidonia. Il 30 giugno alle ore 21 apriamo i cancelli alla musica. Nei giardini interni dello stabilimento si esibirà un'orchestra jazz per il pubblico che vorrà assistere a questo evento. L'ingresso è libero e la manifestazione è a sostegno per la ricerca sul cancro. Vi aspettiamo numerosi. Il 30 giugno alle ore 21. 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 Il 32 giugno alle ore 21. Grazie a tutti.